Benvenuti nella community network di Life Prime, questa fantastica realtà definita la community degli sconti. Come ormai tante persone conoscono, la nostra azienda Life Prime produce il nostro fantastico ottimizzatore di cottura, il Magic Cooker, ma ponendo sempre il cliente al centro dell'attenzione e quindi andando a soddisfare quelle che sono le richieste dell'utente finale e soprattutto facendo una scelta di qualità, la nostra azienda ha ampliato la gamma di prodotti, inserendo anche una linea di dermocosmetica naturale che ci fa prendere cura del nostro derma, del nostro organo più esteso in maniera assolutamente sana. E ancora abbiamo inserito diverse linee di pentole biologiche che ci permettono di cucinare i nostri alimenti senza la presenza e quindi l'assorbimento di metalli pesanti, piombo, nickel, cadmio e tant'altro. Abbiamo ancora una grande scoperta, la Cooker Editore, quindi per tutte le persone che amano avere il libro di cucina Magic Cooker abbiamo veramente un'enciclopedia ricca ricca e specifica con tantissimi prodotti. E ancora abbiamo introdotto Sorsi d'Arabica, un caffè speciale di altissima qualità che va a far sì che i nostri organi interni ne tragano vantaggi, quindi avere veramente una tazzina di caffè di qualità andando ad evitare poi quelli che sono i danni futuri. Ecco la nostra scelta, prodotti di qualità per i nostri utenti finali e anche per noi ovviamente appartenenti a questa community. Oggi vi parlo di un'iniziativa incredibile mai vista prima e infatti vi sto per presentare un progetto incredibile che si chiama Community Network. Quindi in questo mese speciale puoi diventare un cliente VIP facendo un acquisto di almeno 50 euro. Avrai la possibilità, attenzione attenzione, di entrare nella nostra Community Network in questa grande realtà dove avrai la possibilità di avere degli sconti importantissimi non solo sul Magic Cooker, sul pentolame, coperchi e su tutti gli attrezzi da cucina che abbiamo inserito ma anche su tutti gli altri prodotti che abbiamo. Insomma è come se entrasti a far parte di un centro commerciale personale e avere degli sconti e delle offerte veramente incredibili. Quindi in questo mese specifico facendo un acquisto da promozione di almeno 50 euro puoi attivare il tuo sconto per un anno. Avete capito bene? Da questo mese contiamone altri 12 e potrai ricevere con questo abbonamento uno sconto del 40% sulla linea durevole Magic Cooker e del ben 50% su tutte le altre linee. Quindi un risparmio veramente incredibile soprattutto prodotti di qualità. Semplicemente con 29,90 parliamo di circa 2 euro e poco più al mese quindi 29,90 l'azienda ci dà l'opportunità di attivare per un anno dei disconti speciali del 40 e del 50% ed entrare a far parte di questa community e di godere di tantissimi benefici ed iniziative che tra poco vi sto per raccontare. Vi faccio alcuni esempi per i clienti che decidono di aderire a questa community, di diventare dei clienti VIP privilegiati. Un kit di coperchi in promozione ha il costo di 99,90 parliamo di un 25 e del 31 che sono due misure molto molto utilizzate in tutte le case degli italiani e non solo. Già è in promozione a 99,90 ma chi decide di aderire alla community quindi facendo l'abbonamento annuale di 29,90 addirittura questo set di coperchi lo può avere al solito 59 euro. Veramente so che già vi state emozionando e io sto vivendo un'emozione incredibile e ogni volta che riguardo queste agevolazioni mi vorrei scrivere tutti i giorni a questa grande community. E ancora andiamo avanti la nostra piastra liscia una delle nostre chicche di casa Magic Cooker è in promozione a soli 69,90 ce l'abbiamo ridata liscia insomma. Vediamo un po' per chi decide di appartenere alla community quindi di attivare lo sconto in questo mese speciale a quanto la potrà acquistare. A soli 41,90 euro quindi veramente incredibile. E ancora vi faccio qualche esempio eh degli altri prodotti che abbiamo a disposizione come uno stampo per torta veramente bello da vedere ma anche di un materiale di spessore quindi di un certo livello in Creo Casting che ha un costo di 49,90 ma per chi aderisce alla community lo può avere a soli 29,94 e ci tengo a precisare prodotti di qualità e non da scaffale quindi questa è una cosa a cui tengo particolarmente sottolineare. E ancora il nostro caffè Sorsi d'Arabica un caffè che ha uno scatolo con 150 cialde ha un costo di 45 euro ovviamente eh parliamo di un caffè di alta qualità con tutte le caratteristiche che poi vi illustreremo man mano ovviamente per chi decide di fare l'abbonamento quindi per chi decide di entrare in questa comunità degli sconti il costo sarà di soli 29,90 e abbiamo quindi le cialde ok? E ancora andiamo avanti la tanto la tanto richiesta double cook questa doppia pentola quindi due pentole in una veramente sta spopolando ma ha un costo già in promozione eh speciale di centodiciannove e novanta ma una bellissima notizia per chi la vuole avere a casa e quindi cucinare per mariti e figli in contemporanea potrà attivando eh lo sconto e quindi facendo l'abbonamento può averlo a soli 71,94 euro quindi veramente un qualcosa di incredibile. E ancora vi faccio un esempio su alcuni nostri prodotti di dermocosmetica di prodotti di consumo qui abbiamo una crema viso a base di bava di lumaca con un filtro solare con l'acido glianuronico insomma anti-age night and day. Il prezzo in promozione è di trentanove e novanta già un prezzo bassissimo per un prodotto di alta qualità ma per chi appartiene a questa community lo può avere a soli diciannove e novantacinque quindi per un prodotto che si riutilizza quindi non andiamo più nei negozi ma acquistiamo direttamente da noi stessi e in autonomia. Ancora il nostro la nostra CC cream la nostra CC cream repair eh questa crema che copre le nostre imperfezioni con l'olio di jojoba e poi comunque vi spiegheremo nei dettagli man mano che ci incontreremo ha un costo in promozione di ventiquattro e novanta ma per chi fa parte della community per chi decide di abbonarsi la può avere a soli dodici e quarantacinque. Ripeto prodotti di alta qualità senza petrolati parabeni, paraffina e non prodotti da scaffale. Ma i vantaggi non finiscono qua. Vi ho portato alcuni esempi di quello che accade per tutte quante voi o tutti quanti voi che ehm questa sera sono qui e che decidono di fare un acquisto di cinquanta euro quindi lo sbarramento l'abbonamento di ventinove e novanta che vale per tutto l'anno e quindi si può accedere a questa scontistica veramente importante con degli esempi che vi ho fatto ma i vantaggi non finiscono qui perché la nostra azienda ha previsto per chi apparterrà alla community network un qualcosa di speciale dei veri e propri regali e infatti se chi decide di abbonarsi alla community si presenta due amiche quindi una sorella una cugina una cognata la mamma la sua c'era l'amica del cuore e che quindi coinvolge in questa community facendo avere anche gli sconti quindi acquisto di cinquanta euro più eh l'abbonamento per voi che avete fatto il passaparola è un regalo a scelta da casa Magic Cooker quindi o di Magic Native insomma delle nostre linee quindi per te non solo con l'abbonamento attivi gli sconti per un anno incredibili e puoi acquistare quello che vuoi anche in totale autonomia ma l'azienda ci dice se coinvolge tua mamma e tua sorella ad avere anche loro gli sconti perché ovviamente lo ehm lo lo faremo da portavoce le persone più vicine a noi l'azienda ti dice grazie per aver inserito altri due abbonamenti due persone che poi avranno gli sconti scegli un regalo ciò che vuoi quello che meglio desideri veramente incredibile e non è finita qui perché per tutte coloro che vogliono mettersi in gioco e provare proprio questa attività quindi diventare proprio delle incaricate noi lavoriamo prettamente smart working ormai anziché due clienti bisogna portarne quattro appena si portano quattro clienti che fanno l'acquisto più l'abbonamento oltre ad avere due regali a scelta eh da parte di Magic Cooker potete iniziare assolutamente a guadagnare quindi io direi veramente di non perdere altro tempo di entrare a far parte della comunità eh degli sconti e di contattare subito la persona che vi ha girato questo video a una nota dolente possiamo attivare solo un tot di schede possiamo inserire nella community un tot di persone perché è un'iniziativa e una promozione di questo mese in particolare quindi voglio partecipare voglio entrare a far parte della community degli sconti faccio un acquisto faccio l'abbonamento attivo gli sconti e partecipo a tutto ciò che l'azienda mi mette a disposizione finalmente potrò eh scegliere quel prodotto che tanto volevo e che fino adesso stavo aspettando l'offerta più offerta di così entra anche tu nella community network by live prime io ti aspetto e quindi Grazie.